Laghezzo ad Alessandria contro la Juventus Under 23, mai battuta in questo biegno da quando esiste in Serie C con Di Donato che si affida ormai al consueto 4-4-2, Cutolo Gori davanti con Caso dall'inizio la novità è Picchi in mezzo al campo, il rientro di Belloni, quindi Picchi Foglia in mezzo Azione Juve subito all'inizio con Fagioli, bella la percussione, bella la verticalizzazione per Olivieri Pissardo e poi Luciani che salva, calcio di punizione, Zani, macchia, palla fuori nella Juve non c'è Mota Carvaio al centro di una trattativa di mercato con il Monza Laghezzo con Luciani, il traversone, Gori arriva di testa, la palla scende ma sopra la porta juventina c'è il tentativo di Corrado, palla verso Cutolo, Cutolo, gran controllo, tiro poi, pallone fuori al 38esimo ancora Juve con Olivieri, c'è la salita sinistra di Frabotta, palla lì al limite con Frederiksen che cerca il tiro pallone largo si va nel secondo tempo, qui brutto errore da parte di Portanova riesce a partire Caso alle sue falcate in area di rigore, Caso col sinistro, mette in mezzo ed è lo stesso Portanova che salva proprio lui che aveva perso un brutto pallone davanti all'area di rigore tentativo all'indietro qui di Corrado, Baldan, c'è la pressione di Toure che gli porta via il pallone Toure in area di rigore, Toure, Toure! allarga troppo la conclusione, grazie all'arezzo, palla sul fondo Toure Juve che attacca, la Juve ha messo Clemenza, ecco l'ho servito, Clemenza va a puntare, Clemenza si accentra Zanimacchia, spada alla porta, circondato da giocatori, Amaranto riesce a trovare lo spazio per il sinistro battuto e sorpreso, Pissardo al tredicesimo dunque, il gol di Zanimacchia, determinante la giocata di Clemenza che è entrato subito e bene in partita, c'è l'esultanza di Fabio Pecchia e la Juve dunque Under 23 avanti rivediamo, Zanimacchia circondato da Foglia, da Borghini riesce a trovare lo spazio per il sinistro e Pissardo è sorpreso sul suo palo ancora Clemenza per Portanova, cross in mezzo scivolata, Olivieri per poco non ci arriva e la Juve è ancora insidiosa, traversone di Cutolo pallone allontanato leggermente, Cutolo insiste però, Caparbio, pallone fuori, arriva Luciani traversone, c'è Picchi che stacca, nessun problema per Luria Di Donato manda in campo Mesina al posto di Gorici, ha un lunghissimo lancio proprio per Mesina, insiste l'Arezzo, Cutolo subito in sinistra al volo palla che colpisce la parte alta della traversa, gran giocata di Nello Cutolo su questo pallone di testa di Belloni, sinistro di Cutolo a scendere Arezzo anche sfortunato in questa circostanza Mugatore, poi la palla arriva a Clemenza che si gira conclusione alta, dopo che l'azione era proseguita con il pallone per lui di Portanova Cutolo, calcio di punizione un brivido per Luria, a otto dalla fine Cutolo ha avuto un'altra chance, ce n'è un'altra sempre su calcio di punizione ci prova un'altra volta Cutolo Palla lì in mezzo, forse ha deviato la balda nel pallone, lo prende comunque Luria a un minuto dalla fine Luria sigilla questo pallone siamo ormai al 95esimo c'è il tentativo amaganto ma c'è anche il fischio finale e dunque Bestia Nera, la Juve Under 23 in questi due anni sono arrivati due sconfitte e due pareggi un aghezzo non particolarmente brillante quello visto ad Alessandria un aghezzo che non ha mai segnato in queste prime due gare del 2020 lo 0-0 con la Pianese qui sconfitta per 1-0 doveva essere la partita che cambiava la stagione e invece la stagione rimane anonima